Buon pomeriggio all'onorevole Fabiana Dadone, ministro, anzi ministra in questo periodo di super politica ricorrecte per le politiche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, è veramente un grandissimo piacere. Allora, ci siamo, iniziamo a fare questa mezz'oretta di chiacchierata. Io mi permetto di darti del tu perché altrimenti preferisco, sì sì, anche perché deve essere più informale la discussione. Ne chiacchieriamo con più tranquillità. Allora, volevo iniziare un pochino perché Fabiana ha avuto questa grandissima capacità di un po' rompere proprio gli schemi, un po' lo abbiamo visto anche in America, però non ha avuto problemi a finire subito su Twitch, è finita su diversi canali, insomma ha voluto dimostrare davvero di chiacchierare sui canali che i giovani oggi seguono, visto che insomma la TV, la radio è roba un po' più per vecchietti ormai purtroppo, e quindi volevo partire proprio da questo per rompere il ghiaccio. Perché hai scelto proprio Twitch? Non credi che oggi ci siano altri modi per dialogare con i giovani, cioè una scelta obbligata se si vuole provare ad andare a parlare con i giovani? Io non credo che sia una scelta obbligata. Ci sono tanti canali, tanti modi per parlare con i giovani, ho scelto questo canale perché so essere una comfort zone particolare per i ragazzi, diciamola così. Lì c'è un target di età molto giovane che è riuscito anche durante la pandemia a tenersi molto in rapporti, a discutere, a seguire i propri content creator, cioè è stato un canale che gli ha permesso di rimanere uniti, all'interno del quale si discute molto delle passioni come per esempio quella del gaming. Per cui io ho pensato che fosse importante lanciarsi in questa avventura, andare a dialogare nell'area di comfort assoluta che era quella di un social di questo tipo. Poi i canali di comunicazione tradizionali, i media, i giornali e altri social frequentati da una fascia di età più alta, li continuiamo a usare, però quello penso che sia un bel canale informale. Sono partita, non so se avete avuto occasione di vedere le mie dirette da Riccardo Romiti, di cui avevo letto poche settimane prima un'intervista su Open, per cui ho pensato, wow, parlare con i ragazzi, in un canale di ragazzi ai ragazzi dovrebbe essere il posto migliore per riuscire a raggiungerli e a coinvolgerli in una discussione. La cosa è super interessante, ti voglio fare una domanda probabilmente molto stupida, però te la voglio fare comunque. Avevo un po' l'idea, cioè nel momento in cui apri te un canale Twitch, c'è stato un momento in cui hai pensato magari di farne un canale più istituzionale, quasi di spiegazione per i giovani? Cioè secondo te ci può essere quello spazio del tipo, oggi vi spiego chi è il Presidente della Repubblica, come si elege, cioè dare quel tipo di informazione, lo so che ti viene da ridere, però è un tipo di informazione che probabilmente… No, no, ma perché non rido perché ritengo la domanda banale, anzi, rido perché penso che sì, si possa fare assolutamente, sia un modo anche più facile per riuscire ad arrivare tramite un canale di questo tipo. Non sono partita con un canale istituzionale nel quale racconto che come funzionano il Parlamento, la distinzione tra Parlamento e Governo, le cariche dello Stato, l'elezione del CSM, perché credo che in questa fase l'appello più grande che sia arrivato anche in termini post-pandemici sia stata la necessità di ascolto da parte dei ragazzi. Quindi se io avessi aperto un canale dicendo ora vi racconto come funziona lo Stato, secondo me avrei truffato completamente, perché l'obiettivo era proprio farmi dire invece da loro quali sono i loro sogni e le aspettative nell'ottica di far partire un movimento, ma non un movimento politico, cioè un movimento di attenzione dal basso verso l'alto, verso certe tematiche. Io penso che le politiche, non solo le giovanili, debbano partire proprio dalla base per arrivare fino ai vertici e quale modo migliore che discuterne con loro di temi che a loro interessano, con persone della loro età e che loro vedono come punti di riferimento, se fossi muoversi verso componenti di insegnamento, componenti di chiacchiera, anche molto approfondite. È chiaro, riduci il target, chiaramente, però comunque trovi un'utenza che magari può essere interessata anche a una questione di questo tipo. Credo che molti ragazzi oggi, purtroppo, per fortuna, non sappiano come funziona lo Stato. Se posso dire, questo per me sarebbe più facile che affrontare la tematica dei videogame, perché sono molto più afferrata su quest'altro discorso, però diciamo che l'idea era proprio provare a creare un collegamento comunicativo su delle cose che potessero interessare loro in termini anche di prospettive lavorative, di speranze, di condivisioni, ma anche di narrazione di chi ce l'ha fatta. Io credo che questo paese abbia un po' troppo la tendenza a raccontare che cosa non funziona, poi abbiamo delle eccellenze incredibili e non le raccontiamo mai, o quantomeno la politica non le racconta mai. Allora, forse partire così, io l'ho trovato utile. Poi possiamo, sicuramente quando avrò una base che mi seguirà a sufficienza e sarà strutturata e forte, lanciare anche un canale in cui si racconta, magari in maniera anche più semplice, snella, come funzionano le istituzioni, perché è chiaro che forse raccontarla. Un pippone legale devastante, no, no, assolutamente, da quel punto di vista sono d'accordo, perdona la parola, però sono d'accordissimo, cioè non deve essere una roba che ti distrugge, altrimenti è tutto un cavolo. E ne approfitto, ancora un'ultima cosa su Twitch, non so se hai visto, non so se ti ha servito come ispirazione la senatrice Cortez che ha fatto una cosa similare in America, lei è proprio, diciamo proprio più giocatrice, perché lei è andata a giocare ai videogiochi su canali di influencer molto grandi americani per guadagnare, chiaramente anche in quel caso anche un certo tipo di rilevanza, una audience, insomma, per essere riconosciuta. Ti è venuta in mente anche di fare una cosa del genere? Tu prima hai detto probabilmente sono più vicina, più facile per me spiegare la politica che i videogiochi. C'è stato un momento in cui hai pensato, provo anche a giocare a qualcosa con, non so, qualche grosso influencer di videogiochi italiano? Mi è stato proposto più volte, ma diciamo che a differenza della senatrice che è una videogiocatrice appassionata, io ho più passione per la musica che per questo campo, cioè c'è tenuto a intervistare ragazzi che lo fanno per passione, perché l'ho trovato veramente anche un esempio di nuova professionalità e di nuovo sport, che non viene visto nel nostro paese, ma a cui si dà molta attenzione all'estero, per cui devo dire che non è che neanche mi sono ispirata a ciò che ha fatto lei, semplicemente parlando con dei miei amici e col mio compagno che è tanto interessato all'argomento, è venuta fuori questa idea, ma sai cosa? Se ti vengono fuori nelle seriate, in maniera informabile, perché non devi avere un canale così e discuti di videogame, perché può essere utile anche per la formazione, e poi da lì effettivamente abbiamo sviluppato l'idea, proprio nell'ottica poi di affrontare anche tematiche serie, cioè per esempio il fatto che in Italia sappiamo che abbiamo una disaffezione, l'ho detto tante volte, da parte delle ragazze verso l'età delle medie, verso le discipline matematiche e scientifiche, però poi questo argomento io l'ho affrontato con una creator che fa un'attività innovativa, ma dall'altro lato, essendo una ragazza sensibile all'argomento, quindi con lei abbiamo un po' discusso anche di una tematica di attualità soltanto in una chiave un po' divertente. Più leggera, diciamo. Leggera, sì. Allora, entriamo adesso invece un po' più nel dibattito, un po' più con le parti di discussione, visto che siamo all'interno di questa cornice del first playable, ho parlato tanto questa mattina, ieri, di questo fondo, poi non so se magari vorremmo approfondire o meno, però volevo iniziare proprio con una domanda più generica possibile, cioè il mondo dello sviluppo di videogiochi in Italia ha bisogno del sostegno dello Stato? Beh, io credo proprio che un minimo di supporto serva, la dimostrazione è stato proprio questo fondo. È chiaro che è un fondo che partiva da un quantitativo di denaro stanziato non incredibile in termini di volume, diciamocelo. È altrettanto vero però che in meno di 24 ore è andato esaurito, cioè le domande hanno superato quello che era il budget di copertura del fondo stesso. Questa è la dimostrazione ed è la prova provata, se mi permettete, la semplificazione lessicale del fatto che c'è una grande attenzione verso questo mondo e verso questo mercato, che ci sono tanti sviluppatori italiani che vanno a investire all'estero, mentre invece un fondo di questo genere è andato a svuotarsi in meno di 24 ore. Questo significa che c'è un mercato e c'è una possibilità e grazie anche a questa risposta, insomma poi andremo a vederci bene le progettualità, ma io penso che la dimostrazione più grande l'abbia data la risposta di quelli che si sono esauriti al fondo, che l'hanno esaurito in meno di 24 ore. Questo ti dà anche da valutazione di impatto, visto che mi hai detto prima di parlare di cose politiche. Solitamente quando si costruiscono i testi di legge si fanno l'analisi tecnico-normative prima, l'analisi e le valutazioni di impatto, degli effetti, e qui la realtà ci ha dato la valutazione di impatto più grossa che si potesse dare in una maniera semplicissima. 24 ore, meno di 24 ore è disponibile. Mi sembra in tre ore, dopo tre ore, io se ne parlavo tantissimo ieri, c'è stato quasi 100 domande, mi sembra 94-95, per più o quasi 9 milioni di euro di richieste, quindi più del doppio di quello che c'era. Io anche ho letto il dato di tre ore, però finché non me lo ho letto su un blog, finché non me lo confermo al mese evito, quindi mi mantengo. È un primo passo, era inevitabile che si partisse così in piccolo e la speranza è che da adesso in avanti, quindi con questa prova ci sia modo di, non lo so, raddoppiare, triplicare o fare anche altre iniziative in questo senso. È chiaro che è un primo passo, quando si fanno cose innovative, raramente si parte con uno stanziamento gigantesco, per cui si è partito con questo primo passo coraggioso, devo dire, anche se esigo in termini di città, però il passo è stato fatto. La risposta c'è stata e questo può rafforzare, anche da parte mia che andrò a richiedere uno stanziamento ulteriore, ha una forza diversa, perché si può dire, vedete, dopo pochissimo tempo andato esorito, è evidente che una risposta c'è. Io devo dire che forse a volte un po' c'è il timore, quando si affrontano discorsi nuovi, di andare incontro ad un'opinione pubblica che tende a dividersi su tematiche come queste, perché la reazione normale dell'adulto di fronte al videogioco, adulti più adulti di noi, penso ai miei genitori, o ai nostri genitori, la reazione è, ma non perdere tempo con i videogiochi, quando invece dietro c'è un mondo intero, un mercato intero, ci sono professionisti, ci sono preparatori, ci sono programmatori, quindi forse noi abbiamo avuto un po' più coraggio, qualcuno ha avuto un po' più coraggio, a fronte però dei risultati del fondo e quando vedremo a maggior ragione le progettualità sarà ancora più facile riuscire a far capire, come dicevo prima, con la forza dei fatti, che non era una proposta, diciamo così, lanciata sull'onta del pensiero del singolo, ma che era evidente che c'era un mercato dietro, che era un mercato grande e che è un'innovazione che merita di essere appoggiata e che quindi può essere rifinanziata anche in maniera più strutturata e più strutturale. Guarda, c'era, dice una cosa giustissima, ne parlavo proprio questa mattina quando c'erano appunto sia l'On. Palmieri che l'On. Liuzzi, un po' che oggi abbiamo questa problematica appunto di un po' dell'opinione pubblica che talvolta è contro il videogioco, talvolta è a favore, poi diceva giustamente Palmieri, poi esci fuori, vai a cena e vedi il bimbo con il cellulare davanti che magari sta vedendo YouTube, il cartone e tutta quella roba lì e mi ricordo quando ero giovane io, che fortunatamente ne sono riuscito a fare una professione, mio padre mi diceva sempre, esci a giocare a pallone con gli amici, stai sempre qui rinchiuso dentro casa davanti a sta roba, quindi probabilmente ci sarà un percorso culturale, un percorso insomma piano piano a dover fare quando probabilmente noi stessi diventeremo genitori, insomma credo sia una cosa anche abbastanza naturale. Ma i percorsi, perdonami se ti interrompo, vanno guidati soprattutto da chi ha responsabilità politiche, cioè è troppo facile dire è brutto o bello, bisogna guidarli, processi e dire c'è un grande potenziale in questo mezzo, aiutiamo i ragazzi a non investire il tempo in maniera disordinata ma provare a concentrarsi su un limitato diciamo periodo di tempo, su una formazione fisica accanto all'allenamento mentale, su come questo tipo di svago possa trasformarsi in vari tipi di professioni, perché poi non è che puoi fare solo content creator role player, però puoi fare un sacco di altre cose, puoi fare il programmatore, poi da lì puoi capire che hai una grandissima passione per la cyber security, ma veramente c'è un mondo dietro, si tratta soltanto di informare e di informare anche i genitori a capire che è uno strumento, quindi come tutti gli strumenti, come tutti i mezzi, bisogna imparare ad utilizzarli per evitare che ve ne sia un abuso, però è sbagliato demonizzare oppure glorificare, la cosa migliore è guidarli e accompagnarli i processi, almeno io l'ho sempre pensata così. Tra l'altro secondo me dici benissimo quando c'è anche il concetto di una serie di professioni legate al mondo dei videogiochi che sono altamente qualificanti e non completamente dedicate al videogioco, cioè sempre il suo discorso, chi scrive per i videogiochi, lo vediamo all'estero, chi scrive, chi sceneggia i videogiochi spesso viene dal mondo del cinema o finisce poi nel mondo del cinema, quindi secondo me c'è anche questa necessità di trasmettere il concetto che investire, far sì che lo Stato investa o comunque aiuti le start-up o comunque le società a realizzare i videogiochi vuol dire probabilmente anche una importante creazione di posti di lavoro che possono anche andare oltre il mercato dei videogiochi. Certo, poi dall'altro lato ci deve essere, come dicevo prima, anche chiaramente l'attenzione magari al minore che quello che più va diciamo così aiutato a capire che non deve utilizzarlo in maniera distorta, però lì sta anche un po' l'attenzione alla cultura del genitore, ecco io capisco il discorso del vede al ristorante i bambini con il cellulare, sì vabbè però mi sembra un po' semplicistico, cioè voglio dire ognuno di noi genitore sa quanto è difficile, però insomma si tratta un po' di fargli capire, è una potenzialità pazzesca, può diventare uno strumento di lavoro effettivo, dall'altro lato devi fare anche altre cose, cioè infatti non andare alla scuola, devi studiare, devi fare allenamento fisico e non ti devi chiudere e isolare in casa, ma io se posso dire anche la comunità che ho conosciuto proprio sul canale di Twitch, mi sembra tutto tranne con una comunità che è chiusa dentro le stanze in un dialogo, ho visto ragazzi che viaggiano per il mondo, vabbè chiaramente tranne in questo anno, che parlano tantissime lingue, che hanno stretto delle relazioni tra di loro che sono delle relazioni forti, si sono solo costruite in maniera differente, più nuova, ma d'altronde sono nativi digitali, sono un'altra generazione. È un altro periodo temporale, quindi ci sta assolutamente, poi tra l'altro durante la pandemia, per fortuna come abbiamo detto in tanti casi, ci sono stati videogiochi che hanno permesso in molteplici occasioni anche di continuare a farsi la serata con gli amici, anche se ognuno doveva stare a casa sua, c'era altro modo. Sempre ancora su questo discorso, l'ho chiesto anche questa mattina, voglio farti la stessa domanda, il Made in Italy diciamo a livello generale è collegato un po' a una serie di settori abbastanza tradizionali, soprattutto in Italia appunto, vi parlo sempre il cibo, un certo tipo di moda, l'automobile eccetera eccetera. Credi che ci sia spazio per utilizzare la creatività, la nostra creatività, la creatività degli italiani per magari fra X anni esportare anche un Made in Italy sul come si fanno i videogiochi? Eh ma assolutamente sì, l'Italia ha tutte le carte in regola e le potenzialità per poterlo fare, basta vedere la community che si è creata già solo tra i ragazzi all'interno di questi canali, che professionalità abbiamo? Quindi certo che c'è, si tratta di narrazione e di visione di paese da parte dell'istituzione, però io credo che assolutamente ci sia e che noi in questo siamo assolutamente unici e creativi, per cui c'è tutto l'humus, bisogna soltanto guidare il percorso, come dicevo prima, in maniera proficua. Sono d'accordissimo, allora ti volevo anche chiedere una cosa un po' più generale su i percorsi formativi in Italia, lo so che è un discorso complessissimo e tutto quanto, quello che ti volevo chiedere è, credi che oggi l'Italia abbia abbastanza percorsi formativi o abbastanza modalità per far avvicinare il giovane al mondo dei videogiochi, al mondo dello sviluppo? È un elemento su cui, secondo te, la politica deve ancora lavorare, lo Stato deve ancora lavorare? Sì, è qualcosa su cui bisogna ancora lavorare, però ci sono già delle ottime premesse. Io in realtà, non ricordo se questo sabato, in termini di Stato sul mio canale Twitch, c'è proprio un professore di matematica e scienza che si è programmato da solo un videogame, grazie a quale superi i livelli risolvendo dei problemi di matematica. Io l'ho trovato spettacolare. Fittissimo. Fittissimo, esatto, termine non istituzionale, però sì, è assolutamente splendido. Non solo per l'entusiasmo di questo professore che si è messo da solo utilizzando le sue capacità a programmarlo, per l'entusiasmo, perché tutto sta lì, non trasferire soltanto informazioni e infilarle da una persona, ma spingerli e coinvolgerli in qualcosa è l'aspetto determinante che poi cambia anche la vita ai ragazzi quando approcciano alla vita adulta. L'insegnante che ti ha stimolato, te lo ricordi, che riescano a trasferire in maniera produttiva tutto quello che sanno. Per cui si tratta di bilanciare le due cose. È un percorso, secondo me, non ancora tanto lungo, perché poi la pandemia anche su questo ci ha dato uno scatto. Cioè la didattica a distanza ha avuto sicuramente dei limiti, io lo dico sempre a tutti i ragazzi che incontro, è chiaro, li ha avuti perché abbiamo una classe insegnante che ha un'età media di un certo tipo, voi siete estremamente giovani, penso in particolare a quelli in inizio superiore, fine media, però lo sforzo che è stato fatto è stato incredibile perché poi i professori, non tutti chiaramente, però buona parte, hanno provato a riorganizzare completamente il modo di insegnare e la loro capacità di riuscire a trasferire le cose perché un conto è trasferirle dal vivo, un altro è tramite un pc e secondo me questo tipo di passaggio ha permesso anche di fare un salto in avanti sul fronte dell'innovazione tecnologica, chiaramente per alcuni no, non nego che non ci siano stati dei casi infiniti, però dall'altro lato invece ha aperto degli orizzonti incredibili. Ma anche a livello di preparazione tecnologica, di alfabetizzazione tecnologica, comunque ha costretto una fascia che storica, diciamo il 50 più senza voler minimamente accusare o insultare nessuno, però diciamo il 50 più ha doversi obbligatoriamente confrontare con il computer, con le videochiamate, con Zoom, cioè comunque in qualche modo ha portato le messe elettroniche, gli acquisti, e io prendo sempre l'esempio di mia mamma perché lei è un'ex insegnante delle scuole eppure mia madre, e avendo 70 anni lei quando ha pagato la prima volta con questi sistemi online è rimasto a essere fatta, ti portano la spesa a casa, ti paghi così, però questo passaggio, con ogni probabilità mio padre si è fatto speed, ma magari non l'avrebbe fatto se non ci fosse stata l'emergenza in mezzo, avere accesso al sito dell'Inps, lui non ci avrebbe mai pensato se non ci fosse stata l'emergenza a metterli di fronte ad una necessità di alfabetizzarsi sul fronte digitale, questo vale anche un po' per il personale della pubblica amministrazione, di cui spesso diciamo, vabbè ma non riescono, però cioè più o meno, ricordiamoci che per esempio l'Inps ha gestito in 100% da remoto tutte le pratiche, e l'abbiamo fatto dalla sera alla mattina, con un acceso spento, e con il livello di digitalizzazione che c'era, con la banda larga che c'era, in un momento emergenziale, per cui lo scatto è stato fatto, qui si tratta di fare il passo successivo, non tornare indietro, non trincerarsi nella sicurezza e l'ineclicenza di prima, che almeno la conoscevo e sapevo che era quella, ma andare avanti. Già che ci siamo, visto appunto che parliamo di questo scatto, credi che ci sia stato, ci sia ancora una qualche forma di snobismo della politica nei confronti del videogioco, abbiamo detto prima tutto il discorso del demonizzare o meno, un discorso di apertura mentale e tutto quanto, credi che sia ancora troppo percepito come un medium giovane, una forma di intrettamento? In realtà se si imparassero a conoscere, ma non lo dico con arroganza perché io adesso lo conosco, però anche io ho scoperto degli aspetti che sono incredibili e che permettono ai ragazzi di fare dei passi in avanti che sono pazzeschi e noi dobbiamo riuscire a cogliere il meglio della novità tecnologica, non semplicemente dire non mi piace perché non sono in grado di capirlo, ma provare a scendere in un campo che è difficile chiaramente per l'adulto, che è quello dell'innovazione e lì provare invece a superare i muri, a dialogare con i ragazzi, con i professionisti che seguono questo settore ed effettivamente provare a sfatare un po' di miti. Guardi, io ho trovato incredibile il fatto che dopo che ho aperto il canale Twitch, a parte che qualche altro mio collega l'ha fatto con dei canali che hanno anche un po' di ironico, se non ricordo male c'è Francesco Duva che ha aperto un canale nel quale dice che la politica non è un gioco e lui spiega tutto ciò che avviene nella settimana politica ed è carino anche il gioco di parole. Dall'altro lato in commissione lavoro hanno aperto un'indagine conoscitiva che è un'audizione molto lunga di tutti gli esperti in merito proprio ai content creator. Prima che io aprissi il canale c'era un po' di timore verso il proporre una cosa così innovativa, poi si è visto che se ne è discusso e un po' si è detto vabbè dai, se qualcuno si è gettato evidentemente lo spazio di discussione c'è e si stanno facendo una serie di audizioni in cui si affronta il come si può riconoscere un tipo di professionalità come questa. Questi sono passi piccoli ma che in realtà per un'istituzione come il Parlamento italiano non sono piccoli, anzi sono grandi. Un valore enorme assolutamente. Siccome purtroppo il tempo è tiranno, io vedo che già ci siamo sparati la mezz'ora prevista purtroppo, allora vorrei chiudere proprio con una roba stupidissima, mi hai fatto capire che non sei veramente una giocatrice, concretamente una giocatrice, volevo solo capire comunque se c'è qualcosa, qualche titolo che hai visto e che ti ha affascinato, giusto per lasciarlo in chat, tra l'altro ne approfitto solo per leggerti un bellissimo messaggio che diceva no dai questa live è falsa, no scusami un attimo, lei deve essere un'attrice, non è davvero una politica, perché se ho troppe cose benissime, quindi ti lascio questo grandissimo complimento. Grazie, un complimento splendido, infatti quando prima ti ho detto che mi trovo più a mio agio a parlare di politica, non intendevo quello non di politica, ma diciamo di assetto istituzionale, perché sono ora in corrisprudenza, per cui entrando nelle istituzioni ho scoperto che la realtà rispetto a quella che ho studiato sui libri, il diritto parlamentare, la formazione del governo, delle commissioni, hanno dei lati che meriterebbero di essere raccontati effettivamente su un canale informale, magari entro un po' ridendoci sopra. No, io effettivamente non sono una, eh no, non sono una giocatrice, mi avete beccato e da qui fatico ad uscirne, quindi... Hai visto qualcosa? Ti è capitato, mi sembra di aver capito il tuo compagno invece un po' più addentro, c'è qualche cosa che ti è capitato di vedere e comunque ti ha affascinato, ho detto però questa cosa, cavolo, sarebbe bello un giorno giocarci. Vabbè, qua mi chiedi veramente troppo, sarebbe bello giocarci, anche perché poi essendo una che non l'ha mai praticato, sarei talmente migliorata che farei delle figure fessime, l'ultima volta che ho giocato in videogioco sarà stato con Super Mario, figurati. Che comunque non è facilissimo, non è dei più semplici. No, infatti non è finito niente, evidentemente il mio pensiero laterale non è così sviluppato, no, dall'altro lato per esempio ho visto l'ultima partita, visto che dovevo intervistare Romiti, mi sono vista la partita con cui ha vinto i mondiali di Starcraft e ho pensato eh vabbè, cioè a un ragazzo così gli facessimo gestire una distribuzione a livello nazionale di qualsiasi cosa, si riuscirebbe a programmare tutto in maniera super efficiente perché veramente lì è un super uomo, lì, ma poi i colsi fermi, c'è una freddezza che è impressionante, rapidità, analisi, è una cosa spaventosa, lì secondo me rientriamo proprio quasi nei super uomini, neanche più in una versione. Io sono rimasta veramente a Super Mario e al Mortal Kombat, Street Fighter, quella roba lì invece si è andati veramente tanto avanti, quindi diciamo che li sto guardando dal lato più formativo e informativo anche per me, ho visto Minecraft per esempio che lo sto usando mio nipote e vedo che anche quello in termini di formazione di bambini piccoli può essere veramente utile per... Enormemente. Enormemente, quindi diciamo che li sto studiando, ma io sono più un'appassionata di musica, di manga, di fumetti e un po' meno di videogame. E potrebbe essere molto interessante sentirti parlare sul tuo canale anche di manga e fumetti, secondo me potresti avere un enorme pubblico da questo punto di vista, se posso darti questo consiglio. Comunque ne approfitto tantissimo per ringraziarti, ricordo l'onorevole Fabiana Dadone, Ministra delle Politiche Giovanili, ha il suo canale Twitch, quindi seguitela assolutamente e veramente è stato un piacere enorme spero di poter vissare prima o poi. Buon lavoro e buon proseguimento. Grazie mille.